Il Comune di Francavilla ha predisposto un progetto che prevede l'inclusione attiva, ovvero un contributo per le famiglie disagiate della vostra città. Il progetto è nazionale e fa parte del PAN Inclusione Sociale, è il piano di contrasto alla povertà. Il Comune di Francavilla, ma tutto l'ambito foralento, ci teneva ad essere pronto a partire il primo giorno in cui gli utenti possono godere di questo beneficio, che è il 2 settembre. I requisiti sono molto stretti e quindi era utile non creare false aspettative, ma comunque rivolgersi a chi effettivamente potrà beneficiare della famosa carta acquisti, che sperimentata nei grandi capoluoghi d'Italia, dal 2 settembre coinvolgerà l'intero territorio nazionale. Il requisito economico è molto basso, quindi parliamo di nuclei effettivamente dove c'è una condizione di povertà, quindi con un indicatore ISEE inferiore a 3.000 euro, e comunque nuclei che in nessun altro modo devono essere assistiti da altre forme di ammortizzatori sociali. Sarà comunque tutto sul sito internet dei comuni dell'ambito foralento, quindi come sempre nella massima trasparenza. Per accedere al servizio bisognerà rivolgersi al segretariato sociale di ogni comune dell'ambito foralento, dove l'utente è residente, e le assistenti sociali dal 2 settembre sono pronte ad aiutare a compilare questi moduli, che comunque sono moduli discretamente complessi. L'aspetto importante è che non parliamo di un semplice contributo economico, ma parliamo di un progetto di inclusione attiva, quindi il soggetto per poter beneficiare di questi fondi deve necessariamente aderire a un progetto che favorisca la propria autonomia.